E' ancora alta l'attenzione sul focolaio che si è sviluppato nel comune di Laurino. Attualmente sono più di 35 cittadini risultati positivi al covid-19 e purtroppo di questo focolaio una persona è deceduta. Per questo motivo l'Asla di Salerno, con la collaborazione operativa dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, ha disposto per domani, mercoledì 16 giugno, a partire dalle ore 10 e 30, uno screening su base volontaria sulla popolazione residente. Speriamo di aver circoscritto il virus con le restrizioni che abbiamo adottato, lo dice il primo cittadino di Laurino, Gregorio Romano. Speriamo di aver circoscritto il focolaio che si era sviluppato, soprattutto di aver isolato quei nuclei familiari al cui interno c'erano stati dei casi di positività. Ovviamente adesso il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene e se abbiamo circoscritto davvero perché man mano che passeranno i giorni i concittadini si negativizzeranno e quindi potremo allentare le misure che abbiamo dovuto per forza adottare per circoscrivere questo dannasissimo virus che purtroppo ci sta distruggendo la vita. Grazie a tutti.